La serata prosegue con la visita alla mostra e alla cui organizzazione e allestimento hanno partecipato tre studentesse dell'Università di Udine alle quali abbiamo sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione. Elena Lazzarra del corso di relazioni pubbliche, Annalisa Secchi ed Emiliana Gennari del corso Davos di Gorizia. Grazie a tutti. L'ultima cosa, volevo dire che la mostra resterà aperta dal lunedì al sabato, alla mattina dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 16 alle 19, mentre domenica 9 aprile resterà aperta dalle 10 alle 13. Anche da parte mia, buon proseguimento di serata e vi invito ad un brindisi con gli artisti e ancora grazie per essere venuti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.